Benvenuti a questa analisi domenicale, domenica abbastanza rossa per i mercati, soprattutto stiamo attendendo con ansia l'apertura dei mercati tradizionali per vedere l'eventuale reazione che potrà esserci in base anche a tutta la situazione geopolitica, economica, mondiale, ma torniamo subito a Bitcoin, Bitcoin che ha perso definitivamente la struttura macro bullish. Allora, i livelli segnalati nella scorsa analisi, anche quella molto più lunga dove ci aspettavamo un retest quantomeno dei 45.300 non si è avverata e siamo andati sotto subito ai 39.500, zona che poi delimitava effettivamente la rottura della struttura macro di Bitcoin. Siamo entrati in beer market, siamo rimasti intrappolati in tutte le nostre posizioni, abbiamo 300.000 altcoin che non sappiamo più come gestire? Beh, allora, innanzitutto cerchiamo di guardare razionalmente la situazione. La situazione non è assolutamente erosia, si vede benissimo dal grafico. Perso questo livello, i livelli chiave al di sotto si trovano qua giù, zona di confluenza con un fibo storico a 36, che comunque è stato bucato e adesso ritestato dal basso, quindi non un segnale particolarmente bullish, e poi abbiamo questo piccolissimo swing a 34.300. Dopodiché si va dritti sul floor che ci ha accompagnato per tutta l'estate del 2021, zona che molto probabilmente andremo a ritestare. Se siamo rimasti intrappolati, innanzitutto bisogna valutare la quantità di portafoglio che abbiamo investito. In Academy abbiamo più volte cercato di avvisare che più del 25%, soprattutto in altcoin a bassa capitalizzazione, non era il caso, proprio perché se si fosse avverata la visione ribassista saremmo effettivamente rimasti intrappolati con altcoin che sarebbero state sbriciolate, con un termine ben poco tecnico. Perché le altcoin si sbriciolano in questa maniera è presto detto, per via della situazione attuale sulla bitcoin dominance. Bitcoin dominance che si trova a un bottom, con bitcoin debole, come potete vedere anche in una delle lezioni del corso, significa banalmente che non c'è altseason, ma anzi le altcoin soffriranno molto molto di più rispetto a bitcoin. E così è stato alla fine. Continua a essere debole comunque la dominance, sempre in zona 41%, prima resistenza qua giù a 42% che è stata testata ma poi rigettata immediatamente, ma comunque siamo ancora in uptrend di breve sulla dominance. Se la dominance dovesse rompere questa resistenza e arrivare al 47%, per l'altcoin si metterebbe molto 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 male. Abbiamo visto che cosa è stato capace di fare bitcoin con un incremento della dominance praticamente nell'ordine dell'1.5%. Quindi attenzione all'altcoin, il punto di uscita definitivo doveva essere i 39.500, la perdita i 39.500. Detto questo, il beer market, per chi non l'ha vissuto, perché tantissimi chiamano ovviamente ora anche con termini un po' buffi, tipo storicamente bitcoin si è appoggiato ai 30.000, storicamente una volta si è appoggiato in questa zona dei 30.000, ma bisogna sempre vedere da dove arriviamo. Il grafico di bitcoin logaritmico è questo, la versione invece normalizzata è quest'altra. E quindi bisogna sempre tenere a mente che tra i 30.000 e i 20.000 che rappresentano il massimo storico che c'è stato nel famoso 2017, effettivamente c'è tutta una zona dove il prezzo banalmente ha lasciato un vuoto volumetrico enorme. Quindi se siamo veramente entrati in questa fase di beer market, tra l'altro il dump attuale è molto differente rispetto a quello avuto a marzo e maggio dello scorso anno, si può vedere anche la tipologia di distribuzione che è molto differente, qua giù con un flash crash che ci ha portato relativamente in maniera veloce, anche dolorosa, in zona 30.000, qua giù abbiamo una discesa molto più composta. Quindi il beer market non è un flash crash. Beer market significa banalmente che si vengono a creare massimi e minimi sempre decrescenti. Quindi se adesso il mercato molto probabilmente ripartisse anche leggermente e andasse a ritestare ad esempio i 39.500, 39.600, quella può essere una buona zona per andare a alleggerire il portafoglio. Detto questo, avevamo avvisaglie di questo possibile dump, nel momento in cui su una candela H4 o daily si perdeva il mega range che si era instaurato dal 4 dicembre, che era dato da questa candela qui nera, allora le cose si sarebbero messe male. Quaggiù abbiamo avuto questa chiusura daily in zona 40.700, questo qui poteva essere un'ottima zona di uscita, se non appunto girarsi immediatamente in short, per operatività di più breve termine. Quindi che cosa abbiamo a nostro favore ancora? Abbiamo il costo di produzione medio di un bitcoin, che è pari a circa 34.000 dollari. Che cosa significa questo? Significa che nella zona di 34.000 banalmente i miners di bitcoin non sono assolutamente incentivati a vendere perché all'atto pratico venderebbero in perdita. Questo però non ci deve far dormire sugli allori e dire 34.000 è il bottom assoluto. Perché? Perché comunque il costo di produzione di bitcoin varia in funzione della difficoltà, quindi dell'hash rate. Se abbiamo un crollo nell'hash rate, ovviamente il costo di produzione diminuisce. Quindi non prendiamolo come un floor che non fa altro che salire, quindi un livello che non fa altro che salire, ma facciamo molta attenzione a tutto. In questi ultimi giorni bisogna anche valutare i nuovi attori che sono entrati nel mercato, primo tra tutti sicuramente Michael Saylor con MicroStrategy, che ha un prezzo medio di ingresso di bitcoin pari a circa 27.000 dollari. Quindi quello è un altro livello da attenzionare particolarmente. Se ci affidiamo unicamente al grafico, sicuramente qua giù abbiamo una zona di bottom, quella dei 30.000 barra 29.000, però la maniera in cui ci stiamo arrivando non è assolutamente delle migliori. Quindi quando comincia il beer market non immaginatevi che arriva un flash crash istantaneo e poi si riparte a bomba. Tra l'altro questo dump qui ancora non è stato minimamente riassorbito, segno che domanda allo stato attuale non ce n'è oggettivamente. Tutti i volumi sono volumi di vendita. Il beer market è una fase che dura diverso tempo. Non si può chiamare effettivamente beer market quello che c'è stato l'estate scorsa. Al solito magari dipende sempre, no? In base a quando uno entra nelle criptovalute ha visto magari quel flash crash e dice ah questo qua era un beer market, mi sono già passato un beer market. Beer market per come si intende, magari anche chi c'è da un pochino più di tempo, sicuramente riporta alla memoria il 2018. A questo giro la situazione è cambiata profondamente appunto perché sono entrati attori di tutt'altro rilievo, ma il beer market è comunque una fase che si protrae nel tempo, che non è caratterizzata da flash crash su flash crash, ma semplicemente da una discesa lenta e costante, ok? In attesa di costruire una formazione di bottom. Quindi non lasciatevi prendere dalla FOMO di acquistare perché c'è stato un primo dip, ok? Così come non lasciatevi prendere eccessivamente dal panico perché, come vi dicevo, il beer market non è flash crash dopo flash crash, ok? È una caduta più o meno controllata. Poi ci sono dei momenti in cui la volatilità si alza e ovviamente il prezzo viene giù molto velocemente, ma il beer market è una fase che si protrae nel tempo. Andiamo a vedere un altro grafico molto interessante che è quello della bitcoin dei futures del CME, ok? BTC1, punto esclamativo. Quaggiù ho proiettato il movimento del beer market del 2018, cercando di farlo confluire con dei livelli importanti. Questi livelli sono i gap che abbiamo lasciato per la strada e mai colmati, effettivamente. CME gap che ha chiuso a 38.180, il primo gap si trova in quest'area qua giù, praticamente con una media dei 25.000 dollari, tra i 26.000 e i 24.000, dove effettivamente qua giù sarebbe molto interessante vedere la reazione, soprattutto appunto degli attori grossi come microstrategi, che in questa zona si troverebbero effettivamente in drawdown rispetto all'investimento iniziale. L'altro gap è invece nella zona del massimo storico precedente, quindi i 20.000 dollari, indicativamente. In realtà 19.100 sul CME barra 18.002. Questo qui è l'andamento invece del beer market, che si è protratto per tutto il 2018, se lo applichiamo a questo grafico. E mi sembrava interessante farvelo vedere. Tornando invece all'analisi e i livelli chiave, andiamo a vedere che cosa aspettarsi a bitcoin. Prima resistenza in area 39.004, 39.005, quindi retest della struttura superiore. Abbiamo poi questo supporto qui che sta ancora reggendo in zona 34.002 e poi la prima resistenza di brevissimo, che è questa qui a 35.950. Dopodiché abbiamo, e si andrebbe dritti, a retestare i 30.000 dollari. livello chiave dove tutti aspettano il bottom del bottom, ma questa volta potremmo essere sorpresi. Andiamo poi su Ethereum. Ethereum, lui, lo avevamo detto che effettivamente si trovava in una situazione un po' peggiore rispetto a bitcoin. Perché peggiore? Perché quel range che si era andato a creare appunto il 4 dicembre con questa candela qua, forte di tantissime liquidazioni, era stata retestata dal basso verso l'alto, ma non era stata riconquistata in nessuna maniera. Ovvero nessuna candela sul daily aveva effettivamente chiuso di nuovo all'interno del range. Quindi questo qua si andava a configurare come un bearish retest con i target inferiori. i livelli sono, qua giù ci troviamo su questo supporto, questo swing che si è venuto a creare durante luglio. Il supporto inferiore invece siamo sui minimi della struttura d'estate, quindi 1700 dollari. Invece le prime resistenze di breve sono a 2636 e poi a 2920. Questi qua sono i livelli da attenzionare per quanto riguarda Ethereum. Come dicevamo prima nel bear market ricordatevi sempre che non è che si scende e basta. E' altresì vero che non è che due candele di rialzo allora ci hanno fatto trovare il bottom di un bear market. Normalmente la struttura, se andiamo a prenderla, si vede che va a creare dei massimi e dei minimi decrescenti. Quindi il lower high che può creare Ethereum, quindi il massimo decrescente, si può andare a individuare in o questa zona o quest'altra zona. Ovviamente poi l'alta volatilità delle crypto può creare degli eccessi e quindi delle spike che rompono sia verso l'alto ma anche verso il basso. Quindi ecco questo è un movimento che ci possiamo aspettare da Ethereum. ADA avevamo già detto che era messa in realtà abbastanza male, trovava fatica anche qui a riconquistare questa zona qui verde. E giustamente mi potete dire Andrea stai dicendo un'emerita cazzata proprio per il motivo in cui questa daily qui ha chiuso al di sopra. Questa run improvvisa di ADA è data unicamente dalla FOMO che si è generata per il fatto che è finalmente uscita la DeFi su ADA. Resta il fatto che a livello tecnico continuava e continua effettivamente a essere messa male. Il livello di supporto chiave ovviamente è quello del dollaro e il livello più importante in assoluto restano i 70 centesimi. Rotti i 70 centesimi abbiamo un vuoto che ci può riportare tranquillamente in zona 30 centesimi. Ovviamente questi qui non sono target di breve termine. Stiamo parlando di un bel pochino di tempo, proprio perché appunto il bear market si sviluppa nell'arco di un po' di tempo. Andiamo poi a vedere l'Inca. L'Inca purtroppo, e già si poteva notare da questa struttura qui, che praticamente è poi l'inizio di un'inversione di trend, abbiamo effettivamente perso la trend line di lungo periodo che stavamo osservando precedentemente. Link, a parer mio, fin tanto che non torna in zona 10 dollari, ci penserei due volte prima di cominciare un accumulo che poi deve esplodere durante la prossima fase bull. Comunque sia, anche qua giù possiamo andare a individuare dei livelli chiave come resistenze di breve. La prima resistenza di breve si trova a 17,78. L'altro livello, sempre di breve, è questa zona qui, a 19,51. Dopodiché, rotti i 19,51, possiamo tornare sopra a 23. Nella parte bassa, invece, banalmente, si trovano i livelli di bottom, quindi 13,73 e poi questa bellissima area in zona 11,24. Questi sono i livelli per Link. Andiamo a vedere inoltre una coin che molte hanno a cuore, che è Shiba. Shiba ha perso il gatekeeper di Fibonacci in zona 0,786. Questo qui è Fibonacci invertito. Si può fare così per riportare tutto in bolla. Ok. Il target principale è questo qua, degli 871, dove poi si è andato a sviluppare anche qui, sempre in estate, tutto il bottom. Ok. E primo livello di supporto, che comunque vedete anche voi che, da un punto di vista grafico, qua giù non c'è veramente niente, qua giù abbiamo avuto una salita repentina, ma non abbiamo effettivamente dei livelli chiari. Shiba, in un'ottica ribassista, deve andare necessariamente a ritestare questa zona degli 871. Livelli intermedi, possiamo notare i 1265, ovviamente non sono dollari, ma sono 0.0000, eccetera, eccetera. Questa è la situazione attuale. Prima resistenza di breve, invece, in questa zona qui, a 2537. E, al solito, l'uptrend non riprende minimamente, fin tanto che non viene violato lo swing a 3290. Difficile trovare dei livelli per Shiba, proprio perché, per via del grafico che ha avuto, questa impennata clamorosa ha lasciato un vuoto volumetrico devastante. Quindi qua giù, in realtà, non ci sono livelli chiari di supporto, ok? Ma possiamo vedere questo bottom a 871. Quello lì è un ottimo livello dove possiamo andare a rivalutare possibili entrate long, soprattutto in spot. dot. Andiamo poi a vedere dot. Anche dot ha perso dei livelli chiave. Il livello chiave era questo qui, dei 22 e 51, quindi il minimo già creato in precedenza. Troviamo questi livelli di resistenza. Uno a 17,43, uno molto piccolo, qui a 13,73 e poi abbiamo il bottom estivo a 10,95. Questi qui sono i livelli in basso di dot. Il primo livello di resistenza, al solito, è questo bottom qui, quindi la struttura precedente a 23,69. Questo qui è dove potrebbe andare a formare effettivamente un lower high, quindi un massimo decrescente. Finiamo andando a vedere la total market cap che ha avuto un colpo molto molto duro. La total market cap è molto più semplice da visualizzare con i livelli. Qua giù siamo andati sul supporto sullo 0,5 di Fibonacci e al solito il primo punto di resistenza è questo qua a 1,874 triliardi. Questi qui sono un pochino i livelli. Il bottom in estate è stato toccato a 1,20, quindi anche lì rotta questa zona qui degli 1,536, quella lì è la prossima zona di supporto. Abbiamo avuto un bel colpo perché comunque considerate che la total market cap, quindi del mercato cripto, compreso anche bitcoin, praticamente si è dimezzato rispetto a tre mesi fa. colgo l'occasione anche per invitarvi il 27 a un evento che si terrà, un open day che terremo dell'accademia per andare a vedere come lavoriamo all'interno e per farci tutte le domande possibili. Quindi vi aspettiamo anche solo se siete un minimo curiosi. Vi ricordo sempre che in questa fase di beer market c'è un altro protagonista principale che è la DeFi. La DeFi non esisteva nel 2018, non avevamo accesso a rendite passive in cui poter andare a strutturare delle strategie di accumulo. Con questo è tutto, vi auguro un bellissimo weekend e ci sentiamo sul gruppo di OG. Grazie a tutti e alla prossima.